Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max. Si parte con lo sport, si parte con il calcio. Dobbiamo capire se quello che è successo è un gesto di che tipo. Stiamo parlando di un atto di giustizia? Stiamo parlando di un colpo secco di razzismo? O un clamoroso autogol in violazione delle regole? E se per quasi tutti i giornali che ne hanno parlato fino ad adesso, la decisione del presidente federale Gravina di graziare Lukaku, che era stato squalificato dopo il cartellino rosso, quello rimediato nell'andata della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, per aver reagito semplicemente in maniera scorretta ai cori che ci sono stati nei suoi confronti e sappiamo di che tipo, non la pensa assolutamente così tutto il popolo che sta dalla parte della Juventus che parla di ingiustizia. Quindi si parla, signori, di ingiustizia. Il comunicato della FIGC è chiaro. È emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della procura federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara. La decisione è stata accolta con gioia dal bomber dell'Inter che sui social scrive Sono davvero felice per questa decisione del presidente della FIGC che ha dimostrato una grande sensibilità. Credo che sia stata fatta giustizia e sia stato dato una grande segnale a tutto il mondo dello sport e non solo. È stato dimostrato che c'è la volontà di combattere il razzismo. Il mondo Juve però è sul piede di guerra e si sfoga sui social. Dopo l'intervento del presidente della federazione italiana, Gravina, nel togliere il cartellino rosso a Lukaku, mi è apparso chiaro che il calcio italiano è gestito da ladri che non hanno giustizia. Oppure, Gravina sta fallendo su tutto basta vedere la nazionale di nuovo fuori dai mondiali e non ha avuto neanche il buon gusto di dimettersi, ma avanti così, e poi, Gravina spero si dimetta al più presto. Fa solo danni. Dai due mondiali, alla giustizia sportiva, a nessun atto per migliorare il calcio, Serie A ha perso interesse. Ora dà la grazia senza regole. C'è chi scrive. Per giorni hanno raccontato tramite la stampa mica che Lukaku non avesse fatto nulla, strumentalizzando un episodio di razzismo per ottenere un favore sul campo. La decisione di Gravina è di una gravità inaudita e fa capire bene il clima. Ne parlerà forse Report, fra 20 anni, oppure, la FIGC usa le regole come gli pare. A questo punto a cosa ci stanno a fare gli addetti della giustizia sportiva? Tanto c'è il presidente della federazione che dà le grazie a proprio piacimento. Questa è una vergogna. Gesto da tifoso, sulla scia delle solite pressioni mediatiche. A scapito della Juve, e infine, unico punito. Tre giornate a quadrado. Che schifo! Report, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento. Basta cercare Gratta e Vinci con Max. E lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci. Tanto pago io, che me frega! Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.